Siamo con Monica Boccioni, tre record mondiali oggi, nella prima e seconda sessione di questi campionati della nostra età, che cosa provi ad aver realizzato questi tre record? Sinceramente ancora non ci credo, non ho ancora realizzato bene, il record del mondo, cosa davvero voglia dire, però ci sono soddisfatta, non mi aspettavo così tre record del mondo in un giorno. Non uno, ma tre. Tre, infatti, esatto, sembrava ormai un'ampitudine, quindi non lo so. Ogni gara che scendevi in basca scendevi per fare il record del mondo. No, non è che avevo quell'obiettivo, scendevi in basca e mi sono sentita particolarmente bene, è andata bene. Quale delle tre gare hai preferito? Come è andata i 50 d'orso, come gara che preferisco nuotare i 200 stili. I 50 rana? I 50 rana, diciamo che a me la rana non piace tantissimo come stile, però mi è andata bene. Un record del mondo lo abbiamo fatto lo stesso. Sì. Va bene, un piccolo sogno per il Messico adesso è d'obbligo farlo. Beh, sì, certo, è un bellissimo viaggio di maturità. È un'occasione per fare qualcosa di ancora più importante. Sì. Va bene. Ti ringrazio. Grazie a voi.